Noi eravamo un'azienda in difficoltà e prova nera la richiesta di una riduzione del costo del lavoro, ma presentava dei costi di governance estremamente alti rispetto a una banca come l'Emilia Romagna, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, una banca sana in cui i costi di governance erano più che dimezzati. E' Maria Guecci alla guida della Fisac CGL di Nuova Banca Etruria ad illustrare lo studio portato avanti dal sindacato. Un confronto tra il bilancio 2013 dell'Istituto di Credito Aretino ed una banca definita dalla stessa Guecci come sana, ovvero la Popolare dell'Emilia Romagna, evidenziandone le divergenze soprattutto per quanto riguarda i costi gestionali. A fronte di una retribuzione di governance per Banca Etruria di oltre 4 milioni e mezzo, avevamo analoga voce per l'amministrazione Biper di 2 milioni e 6, quindi era una grossa discrepanza e una grossa differenza. La bufera che ha travolto la vecchia Banca Etruria ha toccato anche alcuni dipendenti dell'Istituto. Una decina di lavoratori sono infatti al momento indagati per truffa aggravata. Al centro dell'affaire la vendita di bond subordinati che venivano piazzati secondo una specifica circolare. Nell'epoca le circolari erano chiare, nel senso che c'era richiesto un aumento di capitale per poter ripatrimonializzare l'Istituto e tramite il collocamento di obbligazioni subordinate. Naturalmente nel 2013 la situazione non era quella attuale, nessuno di noi avrebbe mai lontanamente pensato che la nostra banca potesse fallire e tra l'altro il livello di rischio di queste obbligazioni era medio, addirittura inferiore ai BTP. La proposta del sindacato per ristorare i risparmiatori azzerati è sempre quella di andare a pescare tra le plusvalenze dei crediti deteriorati confluiti nella Bad Bank. La nostra proposta che poi è diventata anche una proposta di emendamento e l'abbiamo consegnata ai politici, al nostro segretario generale e quant'altro mirava anche e soprattutto non solo a realizzare le sofferenze e a destinarle alla plusvalenza a favore dei risparmiatori ma anche e soprattutto a mantenerle all'interno della banca e soprattutto mantenerle per poterle lavorare con un filo diretto al territorio di appartenenza.